Quando sono con te, accanto a te, mi sento completo per la prima volta in vita mia. Non esisto senza te. La tua presenza sazia la mia fame. Non rispondere. Non posso non rispondere. Chi è? Sì, pronto. Sì, certo, vengo. D'accordo. Va bene, arrivo. A presto. Ci hanno offerto un lavoro. Come? Di domenica. Alle nove di sera ti consiglio di non andare. Rimani. Aias, i costi per la scuola di Cem sono aumentati. Mia madre me lo ha detto stamattina. Ho promesso che ci avrei pensato io. L'ho promesso a mia madre. Devo guadagnare. Capisci? Per guadagnare devo lavorare il più possibile. Oicco, potrei... Va bene. Hai ragione. Ti accompagno io. Sei un tesoro. Aias, che meraviglia. È questo che volevo da te. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. 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 Ciao.